A dover rimontare Benjuice, spalla canestro, evidente il mismatch con Brandon Taylor, il numero 11 bianco rosso, fa quello che può. Recessione, finta e partenza imperiale da parte di Benjuice, giocatore meraviglioso. Lo abbiamo visto abbastanza evidente sul tentativo di Justin Johnson, il fatto sta che Sassari può correre, ancora con Benjuice, schiacciata nel contropiede, 6 a 0, tutto personale. Ovviamente Filipe Cruz è cucilata nelle mani dei mandati a Benjuice, poi si riaffida nuovamente al proprio numero 6, ping pong tra i due, Benjuice si alza e spara, scrivete 3 e fate 12. Se ne è, è pieno, anche Frank Yenegar che, per il tuo show, è spaziato perfettamente.